Io sicuramente sono un attaccante esterno, ho sempre giocato là fino a qualche anno fa quando poi sono arrivato a Varese e da tre anni comunque faccio l'esterno però comunque ho fatto tantissime partite anche in questi tre anni pure come seconda punta come attaccante quindi credo di fare l'esterno alto dei tre attaccanti Quanto è contato Sogliano in questa trattativa? Penso tantissimo perché comunque con lui ho avuto modo di lavorare a Varese appena mi hai chiamato gli ho detto subito sì perché lui è una grande persona